Il Comune di Lecco ha in vigore un derivato da 36 milioni e mezzo di euro con Deutsche Bank, un'operazione finanziaria che è stata siglata sulle ceneri di un'altra operazione finanziaria del genere, varata con un altro istituto negli anni 2000. Alberto Anghilleri, lei chiede ora chiarimenti all'amministrazione comunale su questo contratto finanziario. Per quale motivo? Nel 2013 la Corte Europea ha emesso una sentenza resa operativa solamente a fine 2016, sentenza che stabilisce che tutti i privati, gli enti pubblici, le aziende che hanno in pancia questi derivati possono rivalersi sulle banche che hanno emesso questi derivati e quindi avere indietro il pagato ingiustamente o rescendere dal contratto. La cosa che noi chiediamo al Comune di Lecco è se il derivato in pancia al Comune rientra in questa quantispecie e se rientra ovviamente a fare le mosse importanti necessarie con Deutsche Bank per recedere da questo contratto che è molto oneroso per il Comune. La cosa assurda di questa vicenda è che questi derivati, inventati se non sbaglio dal Ministro Tremonti, sono prodotti finanziari tossici, speculativi. Il privato lo può fare, le rischia sono soldi suoi. Che lo facciano gli enti pubblici, hanno fatto moltissimi, prima di tutto il Governo nazionale, è veramente assurdo. Immagino e spero che serva da lezione per il futuro. Il derivato costa circa un milione di euro l'anno al Comune di Lecco. Risorse importanti? Il bilancio 2016 era circa un milione, il bilancio 2017 lo vedremo nelle prossime settimane perché il Comune non ha rispettato la data del 30 aprile. Capite che un milione di euro in una città come Lecco è una bella cifra. Quante cose si possono fare? Ripeto, l'errore è quando nel 2007, se non sbaglio, la giunta Faggi si è fatta questa operazione, fatta in moltissimi comuni, ma in molti l'hanno rifiutata perché, ripeto, si tratta di speculazione finanziaria che un ente pubblico non deve e non può fare.